Partenza del treno Tilo, Tilo, si è fermato un istante, ora riparte il Tilo, sono arrivato a un bel paese, ma perché non parte? Guarda il panorama, eccola la partenza il Tilo, binario unico, il treno se ne va, però si vede la chiesa vicino alla chiesa, eccola! Colmenia, la chiesa vicino alla ferrovia del treno, unico paese lombardo che ha la chiesa a 10 metri dal treno, neanche 10 metri, qui sono arrivato al Lago Maggiore, Aldo, Aldo, guardo il cielo, sono arrivato in questo paese che non c'è un supermercato, non c'è un negozio, non c'è niente, ma è bello di per sé, solo vedere il senso naturalistico, le piccole ville che ci sono, tutte abitate da persone straniere, sono qui e devo dire che è un filmato anche invernale di questo bel paese. Ora io e il mio amico andiamo a fare il bagno giù alle tre spiaggette che ci sono, però prima le faccio vedere le strade che porta a Dumenza, il paese al confine della Svizzera. Aldo vi saluto, faccio vedere la bacchecca di nuovo, riprendimi, riprendimi! Ciao ascoltatori di Youtube, sono arrivato a Colmenia oggi, ho passato l'Aveno, Caldè, Porta Valtravaglia, Luino e sono arrivato qui quasi vicino alla Svizzera, guardare che bello, Aldo piace a tutti i luoghi, in riva al lago, oggi lago maggiore, chiudi assistente, se no ti butto dentro nel treno.